direi che è quasi il caso di iniziare con l'argomento di oggi iniziamo anche perché interessante fare un richiamo a come ci siamo conosciuti tra l'altro perché noi ci siamo conosciuti in olanda di persona esatto ma non nell'ufficio bensì tu ancora lavoravi da meccano lavorato anche da meccano lavorai tu lavorai da meccano io ero in giro per uffici a presentare il mio studio di big picture quindi ci siamo conosciuti in quell'occasione lì esatto io mi ricordo di te la prima chiacchierata che abbiamo potuto fare quando eravamo da soli che mi ricordo benissimo eravamo in treno stavamo andando da delft dove meccano allo studio a rotterdam dove la maggior parte delle persone che lavora da meccano vive perché effettivamente trovare casa delft non è semplicissimo delft è una città universitaria insomma c'è la tu che raduna tantissime persone che occupano le principali case da studenti o da giovani lavoratori quindi io come tanti altri non so tu dove vivessi ma io vivevo a rotterdam quando lavoravo lì allora io ho fatto due esperienze da meccano una da tirocinante e una da art biz artist per un anno e mezzo tirocinante per sei mesi però non viveva a rotterdam viveva a skidam che è un comune leggermente a sud di rotterdam invece durante la seconda esperienza ho trovato casa a rotterdam proprio vicino alla nuova sede di mv reddv a 100 metri da dove adesso si trova mv reddv quindi diciamo un 500 metri dal marktal che sarebbe quella grande struttura ad arco che è il mercato a punto degli mv reddv sempre di mv reddv esatto e quindi vivo lì e house single era il posto per gli esperti della della città insomma sì sì la zona me la ricordo quindi noi ci siamo conosciuti all'estero ma una cosa che mi interessa sapere adesso luca è tu mentre lavoravi da meccano avevi già finito il tuo corso di studi allora io avevo finito il corso di studi sì io mi sono laureato nel 2017 e sono partito per l'olanda qualche mese dopo in quei mesi ho diciamo sistemato i miei lavori in un portfoglio che era per me l'obiettivo insomma principale una volta laureato io una volta laureato non ho pensato all'esame di stato nella maniera più assoluta perché volevo fare un'esperienza all'estero per farla il portfoglio ovviamente era fondamentale quindi anche grazie al blog perché devo dirlo io e te ci siamo io mi sono avvicinato al mondo del blog perché io sono stato il primo utente del blog uno degli utenti della primissima ora quindi anche sos portfoglio insomma ho tratto dei vantaggi incredibili degli articoli che hai scritto quindi posso dire di essere ufficialmente un tuo fan comunque io una volta laureato ho cercato di mettere insieme il miglior portfoglio che potessi mettere insieme per un'esperienza all'estero quindi io devo dire che l'esperienza da meccano io l'ho fatta da laureato magistrale però e questo magari è un aspetto su cui possiamo tornare dopo io ho fatto anche un'esperienza di lavoro all'estero fra la triennale e la specialistica secondo me questo molto molto interessante comunque quando io ero da meccano il percorso di studi l'avevo finito per me è la stessa cosa luca e questa è una cosa importante secondo me da di cui parlare oggi perché c'è sempre questa questione come faccio ad accedere a un tirocinio dopo la magistrale no allora la mia esperienza è stata questa quando ho provato ad approcciarmi ad alcuni studi tra cui proprio mvdv mi ricordo che io mi sono ho finito i miei studi nel 2012 quasi 2013 era dicembre 2012 ho consciamente deciso di fare la tesi di laurea con un professore luca molinari che adesso il curatore del museo m9 di venezia è un critico famoso critico di architettura ho fatto una tesi in critica dell'architettura mista al restauro dei monumenti quindi una cosa completamente diversa da quello che faccio oggi cioè proprio l'opposto diametrale però l'ho scelta in modo conscio ho scelto il relatore il correlatore in modo conscio da potermi aprire le porte verso un certo tipo di ufficio venivo comunque da una piccola università tu hai studiato al politecnico di milano giusto sì io ho studiato la seconda università degli studi di napoli che è una piccola università molto regionale anche frequentata da persone comunque più o meno del circondario il raggio era molto molto piccolo e diciamo che non aveva una forte vocazione internazionale in quel momento non so se poi le cose sono cambiate nel corso del tempo ma all'epoca non aveva una forte vocazione internazionale quindi io ero innamorato un po dell'idea di me stesso all'estero e magari non per le giuste ragioni e non dico questo però il mio obiettivo era abbastanza consapevole quindi ho fatto la scelta ho fatto una scelta consapevole del relatore in base a questa a questa strada quindi il relatore ha potuto indicarmi degli studi mi ha presentato da alcuni studi e quello che ho scoperto dopo la presentazione è che molti di questi studi in realtà non accettavano tirocinanti già laureati con una magistrale quindi lì mi è cascato un po il proverbiale peso da una tonnellata addosso perché ho detto cavoli potevo lavorare per un grosso studio da subito però non ho potuto farlo perché perché non avevo un programma che potesse sponsorizzarmi quindi un leonardo o una borsa di studio post laurea o appunto non ero già laureato quindi questo è un punto importante meccano in questo senso era un'eccezione perché meccano accettava e accetta credo accetti ancora tirocinanti con una laurea magistrale quindi non tutti gli uffici in realtà seguono la stessa regola però molti uffici richiedono espressamente dei tirocinanti non ancora laureati non ancora con che non hanno ancora finito il loro ciclo di studi questa è una cosa da considerare quando ci si approccia un tirocinio e quelli che hanno concluso in un ciclo di studi possono accedere a questi tirocini soltanto se hanno una sponsorizzazione con un bando esatto guarda questo qui è esattamente così infatti io avevo il mio primo tirocino all'estero che è stato in portogallo a lisbona fra la triennale e la specialistica era col programma leonardo che adesso in realtà non so neanche se esista più sinceramente penso di no ma oggi c'è ancora qualcosa su leonardo magari in chat ci possono ci possono indirizzare su questa cosa perché comunque con tutti i cambiamenti che sono stati negli ultimi anni mi ricordo che a un certo punto l'erasmus era stato sospeso come programma c'erano stati un po' di cambiamenti anche su questo aspetto non so ecco però ci sono comunque delle borse post laurea alcune facoltà hanno comunque dei programmi di scambio non sono il mondo dell'architettura ma se penso ad esempio al madi che è il master in architettura digitale dello uav che forma i visual artist lì hanno un programma di scambio con uffici internazionali per appunto immettere del personale nel mondo del lavoro e quello master post laurea però ok leone leone dice che c'è ancora quindi ottimo questa è un'occasione interessantissima e da valutare assolutamente assolutamente perché vuole fare un tirocino in tantissime cose che se tu devi affrontare per la prima volta possono davvero spaventare mentre invece quel programma lì ovviamente è un programma che incentiva il merito quindi sono borse di studio che uno vince però se uno riesce a superare queste selezioni entra all'interno di un sistema che è straordinario perché ti aiuta nella ricerca della casa nella scelta dello studio quindi per chi per esempio mi ricordo che su instagram abbiamo fatto questo sondaggio per chiedere un po di cosa avremmo sono di cosa avremmo potuto parlare stasera lato nostri nostri follower ci hanno chiesto com'è un primo tirocino appunto ecco secondo me un primo tirocino con un programma come quello leonardo è veramente straordinario devo dire è un grandissimo aiuto assolutamente spesso non è proprio facile trovare i bandi a meno che la facoltà non sia molto preparata in questo in questo senso chiaramente le più grandi vari politecnici hanno più dipartimenti anche un dipartimento internazionale internazionalizzazione per indirizzare gli studenti verso questo tipo di programmi per le facoltà più piccole credo sia un pochino un pochino più difficile leone dice una cosa interessante infatti vogliamo vogliamo arrivare proprio su questo su questo punto qui ossia non conviene fare un tirocino durante il periodo di studi e io dico assolutamente sì ma assolutamente cioè io dico meglio laurearsi con sei mesi un anno di ritardo con dell'esperienza lavorativa alle spalle da tirocinante piuttosto che dover recuperare tutta l'esperienza dopo il ciclo di studi cioè è un investimento chiaro bisogna vedere quel quell'anno da fuori corso eventualmente come un investimento a lungo termine nient'altro si tratta proprio di investire parte della retta del sesto anno nella propria formazione lavorativa in realtà nelle facoltà italiane ci sono anche dei programmi che appunto nel curriculum di studi che prevedono un tirocino ma all'epoca quando mi sono laureato io era poca roba c'era davvero il tirocino di quattro crediti era poche settimane quindi non so se è cambiato qualcosa nei programmi di studi ma io non farei affidamento al curriculum di studi per trovare il tempo per il tirocino ecco nelle facoltà francesi è così per esempio nelle facoltà francesi c'è proprio un periodo di sei mesi di pratica previsto nell'ordinamento degli studi guarda aggiungo una cosa dal mio punto di vista per rispondere anche alla domanda che ci hanno fatto in chat io non sono sicurissimo che sia sempre una buona idea nel percorso triennale ecco diciamo immaginiamoci un percorso che è tra i più due ci sono ancora alcune facoltà tipo ferrare che sono cinque anni uniti immaginiamoci un percorso tra i più due secondo me dei tre anni almeno i primi due sarebbe meglio cercare di concentrarsi sullo studio si potrebbe addirittura spaccare fare appunto lavorarsi in triennale spaccare con un tirocino e riprendere la magistrale secondo me secondo me quello federico è un modo veramente ottimo anche perché d'altra parte se no che senso a spaccare la triennale dalla specialistica cioè io per esempio mi sono laureato a marzo no quindi quando è comunque ero in corso perché l'ultima sessione in corso e come me tantissimi sono laureati a marzo solo che tu incominci la specialistica a settembre dello stesso anno quindi tu hai una finestra temporale quello lì è il momento veramente migliore per partire per una prima esperienza all'estero eventualmente so che alcuni compagni hanno fatto un tirocino alla fine della triennale per come propedeutico alla tesi cioè da quel tirocino è risultata la loro tesi triennale questo secondo me è già un buon modo cercherei di non anticipare troppo perché effettivamente per renderlo efficace uno deve capire un po di cosa si sta parlando e maturare sì sono assolutamente d'accordo ma non credo che uno studente al terzo al terzo anno sì ma secondo anno non credo che uno studente abbia ancora abbia già la maturità per poter affrontare un tirocino del genere io penso proprio di no chiaro non è prima è meglio è però è una cosa da considerare nella seconda metà del proprio percorso di studi sicuramente e potessi tornare indietro è una cosa che io farei senz'altro esatto tant'è vero che quando io ho lavorato mio primo tirocino è stato in germania presso sauerburg captain e era un po guardato come come un alieno perché ero un laureato alcuni dicevano ma non è giusto che tu da laureato fai un tirocino ma guardami una ragazza di scabella mia in italia è un pochino diverso non funziona come funziona da te magari tu hai anche più esperienza lavorativa di me io non ce l'ho abbi pazienza quindi se federico questa cosa non la sapevo scopre di te cose solo in live ma cosa che ho lavorato da sauerbruck che io ho fatto sei mesi da sauerbruck cinque mesi li ho passati a fare disegni di dettagli costruttivi di un quartiere generale di ernst e young in lussemburgo progettato da loro ho fatto un mese di concorsi è una bella esperienza è stata una bella esperienza berlino è anche una bella città un posto molto bello dove vivere infatti mi piacerebbe tornarci dopo il tirocino non ci sono più tornato un po mi dispiace senti ma invece erasmus nei fatti sesso però approfitto per chiedere qualcosa per conoscerti ma io ho fatto un erasmus indicibile l'ho fatto a malta perché dall'unica destinazione che anche qui questo è un punto interessante che è emerso nelle nostre stories perché era il paese l'unico paese anglofono però non è detto insomma l'ostacolo della lingua in erasmus non è un vero e proprio ostacolo no anche perché quando si è comunque così giovani si è anche abbastanza flessibile l'apprendimento di una lingua nei rudimenti e poi non è neanche complicato a prendere quei rudimenti che servono per capire per seguire un corso in lingua straniera non è come non è l'inglese del non l'inglese non è una lingua straniera con cui conversare ma è una lingua straniera pensata apposta per quel settore lì quindi è relativamente più facile seguire un corso che non sia in questo caso in lingua inglese magari in spagnolo che è ancora più facile addirittura in tedesco è vero è vero è vero io ho quale tu l'hai fatto in portogallo invece l'erasmus io io ho fatto no io l'erasmus non l'ho mai fatto quindi questa cosa qui è l'unica esperienza all'estero diciamo del mio percorso formativo che manca ed è secondo me anche divertente raccontare il perché nel senso che io finché studiavo la triennale devo confessare che non mi vedevo molto proiettato all'estero non avevo particolarmente questa idea non avevo voglia mi è scattata la scintilla una volta finita la triennale lì non so bene che cosa ma è scattato qualcosa una curiosità e poi ho deciso di non fare l'erasmus alla specialistica proprio perché avendo conosciuto l'estero da lavoratore mi era appassionato talmente tanto che cercavo di finire la specialistica più velocemente possibile per poter tornare all'estero e tornare a essere un lavoratore all'estero però guarda un po di curiosità di come studiare all'estero mi è rimasta e probabilmente mi rimarrà sempre però effettivamente anche l'erasmus è un insomma è qualcosa di interessante di formativo in qualche modo probabilmente più sul lato personale che sul lato effettivamente accademico perché insomma sono d'accordo luca anzi oltre che lato accademico c'è da pensare a un altro aspetto dell'erasmus che il lato del networking soprattutto perché è proiettato appunto verso un percorso di lavoro internazionale o si immagina un percorso del genere fare comunque rete con studenti internazionali è molto importante le relazioni migliori si stringono durante l'erasmus io purtroppo non sono riuscito a stringerne in quel frangente lì perché era anche quella università un po particolare quella di malta però l'erasmus è altamente consigliato per stringere una rete anche perché vi dico la verità ragazzi il mondo dell'architettura è molto piccolo anche a livello internazionale non vi dico quante volte a rotterdam ho parlato con persone che conoscevano persone con cui ho lavorato in altri paesi è un mondo veramente così ristretto quello dell'architettura quando si lavora in campo internazionale che fa un po io fa un po specie vi dico la verità soprattutto più o meno fra coetanei diciamo anche io e te federico se ti ricordi quando abbiamo incrociato un po le nostre conoscenze di amici colleghi che hanno lavorato all'estero passando per alcuni studi che comunque anche io e te conosciamo effettivamente sono tantissime le conoscenze in comune quindi sicuramente stringere una rete già dagli anni universitari apre tantissime porte perché anche per conoscere uno studio dall'interno non dico perché sia più semplice entrare non necessariamente ma per conoscere uno studio dall'interno avere qualcuno che lavora lì e che può dire se è un buon ambiente sono ambienti in cui vale la pena spendersi è veramente utilissimo e queste conoscenze in realtà già si fanno gli anni universitari ecco non bisogna aspettare di essere laureati secondo me ecco l'insider il cosiddetto insider sia la persona che lavora all'interno di uno studio che a noi piace per cui piacerebbe lavorare diciamo che un po la chiave anche per una candidatura di successo e chiaramente quando si conosce una persona all'interno di uno studio c'è una probabilità molto più alta eventualmente di poter accedere a quello studio inizialmente come tirocinante ma poi chissà e questa è una cosa che all'estero accade tantissimo io una cosa che ho notato è cercare un lavoro direttamente all'estero dall'italia è un'impresa molto difficile discorso diverso se si trova già in un circuito che parte da un tirocinio allora lì è possibile crescere in quel paese non so se hai riscontrato la stessa cosa però io conosco racconti di persone che hanno iniziato una carriera all'estero poi sono riusciti a andare da un ufficio all'altro comunque grazie alla loro rete di conoscenze fatte sul posto e da lì diciamo non si sono mossi discorso diverso se cerchi una posizione da architetto junior per dire entry level partendo appunto dall'italia si si guarda è assolutamente così ma chiarisco una cosa giusto per evitare fraintendimenti non è un fatto di raccomandazione esatto non c'entra niente è un fatto secondo me conta moltissimo il tempismo perché in realtà non è proprio vero che uno non è adatto a uno studio non è abbastanza bravo per uno studio io ho creduto questa cosa per tantissimi anni perché vedevi grandi studi quelli che fanno i concorsi internazionali quelli che li vincono anche dicevo ma secondo me chi lavora lì sono degli alieni cioè io non sarò mai così in realtà ho scoperto poi andando anche dentro un grande studio che il tempismo è fondamentale perché loro compongono i team e cercano delle persone magari in maniera molto specifica è una cosa che non dicono all'esterno quando magari assumono però loro cercano di comporre i team con grande attenzione quindi cercano delle persone specifiche con alcune doti principali su altre questo significa che se uno si candida al momento giusto le possibilità che che entri o che insomma facci i primi passi all'interno di quello studio sono altissime è ovvio che avere qualcuno dall'interno che dà un'imbeccata rispetto a quando può essere il momento migliore per candidarsi fa tutta la differenza del mondo non è certo un discorso di raccomandazione voglio aggiungere voglio aggiungere sul discorso delle raccomandazioni perché la trovo una cosa che mi tocca da vicino ed è la trovo particolarmente importante la raccomandazione non è da intendersi come la raccomandazione all'italiana come il calcio nel sedere esatto esatto si deve intendere come appunto raccomandare una persona valida una persona valida che può apportare può dare qualcosa può aiutare effettivamente i team di progettazione all'interno di una studio di uno studio se io per esempio conosco te luca che sei un bravo architetto so che sei molto perspicace e capace in quello che fai io molto volentieri ti raccomanderò presso il mio studio che so che cerca un tirocinante che cerca un architetto questa è una raccomandazione sana discorso diverso è il nepotismo bisogna fare una distinzione tra nepotismo esattamente aggancio e raccomandazione intesa in modo anglosassone va chiamiamolo così quella che loro in realtà chiamano reference nel senso una referenza cioè qualcuno dall'interno che come se garantisse per te non è che ti dà un calcio nel sedere l'hai detto benissimo secondo me dice guardate che la persona che sta bussando alla vostra porta vale davvero e quindi pensateci e questo fa tutta la differenza del mondo perché se una zecca al tempismo giusto in realtà secondo me anche tu federico ti sei reso conto che si può veramente arrivare dovunque e questo è una cosa che magari visto dall'italia quando io studiavo un po gli studi in cui sarei voluto finire guardando i loro siti guardando sulle riviste io davvero avevo questo pensiero diciamo ma ma quanto sono bravi ma come come si fa lavorare lì è impossibile in realtà no non è così è un insieme di tantissimi fattori in cui secondo me tempismo e anche rete di conoscenza giocano un ruolo importante poi bisogna essere bravi però insomma certo bisogna essere bravi è un concetto relativo bisogna anche essere un po consapevoli delle skills infatti c'è andre 11 che chiede quale cosa richiedono gli studi internazionali per poter essere presi c'è anche un discorso di abilità personali certo la rete è importante essenziale però è importante anche presentarsi con del materiale bello solido assolutamente e io posso dire dalla mia esperienza che gli studi che soprattutto i grandi studi studi internazionali qui parliamo di studi medio grandi di tenore internazionale questi studi nei tirocinanti cercano soprattutto poi a questa cosa dipende appunto dalla dimensione dell'ufficio qualcuno che sia in grado di produrre elaborate di progetto questa è la funzione iniziale di un tirocinante quindi a seconda delle abilità mostrate nel portfolio magari ci potrebbe essere anche una piccola parte di progettazione e quello che mi è capitato da meccano in cui ho fatto anche una piccola parte di progettazione però il compito principale di un tirocinante all'inizio non è quello di far parte integrante del team dei progettisti ossia intesi come quelli che progettano l'architettura ma quello più che altro di tradurre l'architettura tradurre il concept l'idea in elaborati grafici quindi per un tirocinante e questa è una tendenza sempre più spinta parlavo con un mio amico che lavora in olanda e dice è sempre più l'aspetto grafico che conta sempre meno l'aspetto progettuale è in realtà è una cosa che ho riscontrato nei tirocinanti si cerca sempre di più la skill grafica anche se l'aspetto progettuale è la skill che serve assolutamente quella resterà sempre essenziale anzi quando un recruiter valuta un portfolio chiaro la prima cosa che vede non lo nego la prima cosa vede l'organizzazione grafica del lavoro perché è la prima impressione quella che conta subito dopo se l'elaborazione grafica l'impaginato è chiaro e pulito subito dopo il recruiter passa a guardare la qualità del progetto architettonico cioè quello il secondo step quindi è comunque un discorso fondamentale e quello lo resterà sempre però avere comunque delle capacità software importanti abilità di rappresentazione anche e di astrazione del concept a poter tradurre in elaborati grafici è fondamentale all'inizio e questa è una cosa che va di pari passo con le abilità che vengono richieste volta per volta agli studi ad esempio quando probabilmente quando sei entrato tu da meccano luca era un periodo in cui lo studio in cui meccano vive una forte transizione verso revit sì o era già bello avviato e cercava qualcuno che fosse già bello carico e pronto a lavorare in revit quando sono entrato io la transizione era appena iniziata se non sbaglio iniziata ma guarda aggiungo una cosa anche per rispondere alla domanda perché secondo me quella lì è veramente la domanda cioè capire che cosa serve per andare in uno di questi studi voglio salutare giusto Antonio Marino che si recupera il video indifferita da da Parigi ciao Antonio ciao allora secondo me il discorso è che da meccano per esempio quando c'ero io faccio quell'esempio perché è qualcosa che conosco molto bene e eravamo 106 se ricordo bene comunque più di 100 persone ecco io Federico posso dirti ma tu lo sai benissimo che non erano 106 progettisti di altissimo livello nonostante lo studio sia uno studio grande e molto nuovo non è detto in senso derogatorio è attenzione no non è un affermazione derogatoria volevo precisare soltanto questa cosa no 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 però lascio finire a te il concetto vai nel senso che uno si chiede che cosa serve per entrare in quegli studi secondo me la capacità progettuale è una cosa che non è una prorogativa per entrare in realtà è una qualità che è meglio far emergere quando uno ci è dentro anche perché Federico se ci pensi quando si tratta di giovani laureati gente che ha non so 25 anni come si fa a valutare la capacità progettuale che è abilità che si allena in una vita intera quindi io non baserei su quell'aspetto lì anche perché soprattutto quando uno è giovane è veramente difficilissimo anche soppesarla da un portfoglio ma anche soppesarla in senso assoluto perché è qualcosa che si impara in una vita quindi meglio far emergere le qualità e le caratteristiche di ad esempio capacità di lavorare in gruppo capacità di utilizzare i software capacità di sapersi inserire in un contesto secondo me questo è l'aspetto più importante cioè capire lo studio che cosa ti può chiedere ti chiede tanti lavorati ti chiedi essere molto flessibile perché devi passare da usare in design a photoshop a rhino a fare addirittura i plastici io a meccano sono finito in sala plastici ma dai sì 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 assolutamente grandissimo assolutamente e so che è stato apprezzato anche il fatto che quando mi hanno detto guarda ci sarebbe da fare questo plastico io mi sono alzato e detto plastico lo faccio io eccomi qua lo faccio io sono un italiano adesso c'è un italiano che lavora in quel dipartimento sì mattia mattia ragazzo super in gamba e voglio sottolineare questa cosa che hai detto perché è fondamentale anche a livello di consapevolezza del portfolio che si presenta a un studio se voglio se voglio presentarmi in un certo modo uno studio dovrò fare in modo che il mio portfolio rispetti e rispecchi quello che voglio poi andare a fare quello che voglio poi offrire a quello studio per me è capitato di presentare delle immagini molto interessanti quando ho iniziato il mio tirocinio da meccano quindi non quando ho lavorato da artist ma da tirocinante la domanda della recruiter in quel frangente è stata queste immagini le hai fatte tu e ho detto beh sì tutte a parte magari questa qui lui ho indicato quella che non avevo fatto e da lì ho capito che con la consapevolezza di poi e poi che il mio portfolio era improntato appunto verso la rappresentazione grafica quindi quello che successivamente è stato il mio compito all'interno del team di progettazioni io mi ricordo ho lavorato per sei mesi da meccano sull'ospedale di zandam io ho lavorato sulle presentazioni ho lavorato sui render per le presentazioni sui diagrammi e sull'elaborato grafico diciamo che un po il mio portfolio mi ha aiutato a incasellarmi in quel ruolo in modo inconsapevole quindi adesso lo dico a voi in modo tale che siate consapevole di quello che fate quando mettete i vostri elaborati nel portfolio ma gli elaborati che mettete nel portfolio vi aiutano a mettervi in un solco particolare di competenze che poi verranno sfruttate da quell'ufficio in particolare questo per gli studi grandi attenzione perché per gli studi medi e piccoli chiaramente i compiti si spalmano in modo più omogeneo c'era c'è una domanda in chat mi sembra pucciarelli ci chiede vorrei fare una domanda sui tirocinestri se ne esistono di estivi come cercarne e trovarne sono al secondo anno mi piacerebbe farne uno quest'estate tra la fine del secondo semestre inizio dell'anno nuovo interessante come domanda anche perché proprio prima parlavamo del poter magari sfruttare il gap tra laurea triennale e laurea magistrale per fare un tirocino un po più completo per quanto riguarda i tirocini estivi in particolare non tutti gli uffici ma ce ne sono alcuni che hanno stagioni di tirocini non tutti alcuni sono più flessibili magari cercano l'occasione però ce ne sono alcuni anni che hanno il periodo estivo e il periodo invernale guarda se se devo aggiungere qualcosa io se fossi in lei cercherei di individuare due percorsi principali il primo quello della propria dell'università in cui lei studia non so quale sia ma ci sono delle università che ti mettono in contatto con degli studi proprio per dei tirocini estivi secondo me il politecnico mi ricordo che faceva qualcosa del genere quindi arrivarci tramite l'università è sempre un buon modo anche perché è una sorta non vorrei dire una sciocchezza ma penso che sia l'erasmus plus o comunque un programma simile all'erasmus ma virato verso il tirocino che è anche nel periodo estivo quindi lì in tal caso sarebbe ottimo perché l'università ti dà una certa organizzazione l'altro percorso alternativo a questo che potresti considerare è quello di cercare tu un tirocino ma non mettendolo come se fosse estivo mettendolo semplicemente come numero di mesi che tu hai a disposizione per quel periodo ad esempio sono tre mesi tre mesi e mezzo è già qualcosa ci sono molti studi che prendono dei giovani tirocinanti anche per un periodo così breve quindi magari anche per uscire dalla dinamica del tirocino estivo se lo studio non ragiona a livello stagionale ma giustamente tu federico dici che alcuni lo fanno ma nel caso non lo faccia tu magari puoi proporti nell'application semplicemente per i mesi che a te interessano perché poi ovviamente devi riprendere gli studi in settembre quindi sono le circa due tre mesi forse qualcosina di più puoi proporti per quella finestra lì ci sono studi che lo fanno non è semplice cercarli perché si tratta proprio di andare a vedere letteralmente le parole che usano per le job application cioè se trovi un summer internship allora puoi andare a controllare i mesi però è furba luca mi piace la cosa che hai detto riguardo al proporsi magari non avrai dei compiti così così importanti magari interno di un team di progetto magari ti faranno assaggiare un po di questo un po di quello nel senso ti metteranno a fare disegni a fare un po di piccoli dettagli però comunque intanto è un'esperienza lavorativa già dal secondo anno che non è male se puoi farlo è una bella cosa insomma vuol dire che lei super impari con gli esami però e se fa una domanda del genere e sicuramente si vuol dire che già impari con gli esami ed è pronta quindi sì ottimo dai bene bene quindi sì dai un'occhiata comunque entra in contatto col dipartimento estero dipartimento internazionalizzazione della tua università controlla se ci sono possibilità altrimenti a seconda punto le tue propensioni anche conoscenze linguistiche e adesso arriviamo alle conoscenze linguistiche magari scegli una destinazione proponiti agli uffici per dei tirocini brevi chiaro erasmus invece mi sembra non sia il caso perché erasmus ha un minimo di credo che sia sei mesi perché non risponde grossomodo a un semestre a un semestre quindi direi di non orientarsi sui programmi perché i programmi non hanno quella questa finestra temporale così breve però è interessante fare appunto un discorso con i uffici della tua facoltà riguardo alle lingue luca leone dice io sappia che molti cercano almeno per sei mesi sì è così è vero molti cercano per almeno sei mesi però ci sono anche altri uffici che si orientano sui quattro se posso aggiungere una cosa è molto generica ma è un consiglio per rispondere alla domanda precedente se dovessi identificare dei paesi che prendono per tirocini più brevi di sei mesi considererei i paesi mediterranei quindi spagna portogallo e francia perché secondo me gli altri in realtà come giustamente ci ricordano in chat sono dai dai sei mesi in poi quindi ce n'era qualcuno scandinavo mi sembra che faceva anche tirocini più brevi ah ok ok scandinavi anche qualcuno anche fa tirocini brevi abbastanza sicuro che la maggior parte degli studi portoghesi di lisbona prendono anche per tre mesi tre mesi e mezzo questo per esperienza personale lo posso tranquillamente dire perché praticamente ho fatto la stessa cosa secondo me in olanda però giustamente si va dai sei mesi in su come ci hanno detto anche in chat quello è vero sì un discorso da fare su sui pagamenti ci sono alcuni uffici che magari non avendo questa lunghezza intera magari non sono in grado di retribuire il tirocinio mi è capitato di avere contatti con degli studi che non potevano retribuire il tirocinio per dei periodi più brevi quindi anche questo è un fattore da considerare secondo me sì sì è vero è vero è vero ma luca per quelli che sono in ascolto che sono in live e magari parlano più lingue oltre all'italiano e all'inglese quindi qualcuno che parla tre lingue quanto importante secondo te la conoscenza di lingue straniere all'interno di un ufficio adesso ti dico la mia è una cosa molto situazionale questo vale soprattutto per gli uffici che hanno una vocazione internazionale ci sono periodi in cui magari un particolare ufficio si trova a dover affrontare un progetto in una particolare particolare luogo del mondo insomma e quindi cerca del personale che sappia appunto che abbia dimistichezza con quella particolare lingua quindi qui entra in gioco quello che hai detto tu sia il tempismo se magari tu luca parli il tedesco e lo studio x è in quel momento impegnato su un progetto in germania ci sono molte più probabilità che tu venga appunto assunto anche come ti dico certo potremmo dirlo è veramente non parliamo poi delle lingue orientali io conosco persone che parlano diverse lingue non solo appunto lingue europee ma anche lingue orientali che hanno una vita molto più facile all'interno degli studi la conoscenza delle lingue è anche se per certi tipi di lingue è un po off limits soprattutto per chi studia però c'è da dire che è un grosso un grosso boost è un grosso plus per quando si fa inviare una candidatura e anche qui riguarda c'è sempre un discorso di tempismo e di capire dove l'ufficio target presso cui ci rivolgiamo ha le proprie attività ci sono uffici che hanno una vocazione estremamente internazionale hanno progetti sparsi in tutto il mondo altri che magari non hanno questa vocazione così internazionale e si occupano soltanto di un'area geografica in quel caso magari la conoscenza di una lingua specifica o della lingua specifica dell'area geografica può essere un po più importante si aggiungo una nota di di colore che non vuole nella maniera più assoluta essere discriminatoria anzi è un dato di fatto la maggior parte dei lavoratori degli architetti asiatici in particolare cinesi che lavorano nei grandi studi esteri soprattutto del nord europa sono particolarmente valorizzati particolarmente ricercati per loro conoscenza linguistica quindi sono davvero delle delle figure strategiche per gli studi perché moltissimi bandi in cina escono solo in cinese sì io mi ricordo che effettivamente c'era anche da da meccano probabilmente te lo ricorderai anche tu chi lavorava come architetto lì ed era un architetto ma si occupava di tradurre un bando intero e dalla lingua cinese alla lingua inglese quindi hanno davvero il tema della lingua può essere strategico soprattutto se rivolto all'asia poi si sa che gli italiani che conoscono il cinese che studiano architettura probabilmente neanche uno però magari c'è qualcuno che ha genitori che ha genitori cinesi esatto c'è in realtà si potrebbe essere un discorso di anche famiglia o contesto particolare io sulla lingua aggiungerei una cosa nel senso che sapere la lingua che cosa vuol dire c'è perché c'è arrivata una domanda nelle storie infatti una domanda interessante c'è quanto importante appunto la conoscenza della lingua straniera nell'inglese ci chiedevano in questo caso io direi che non è così importante come si possa pensare chiaro bisogna avere comunque una conversazione non dico super fluente ecco non al non un c2 non a livello per tenere una conversazione botta risposta però ci vuole una certa comprensione una certa proprietà di linguaggio però anche qui c'è il discorso che facevamo all'inizio l'inglese che si usa negli studi di architettura è sempre molto schematico è sempre molto ripetitivo in qualche modo perché si usano sempre gli stessi termini ed è facile comunque padroneggiare quel tipo di termini e gli schemi sintattici che servono per comunicare con quel tipo di di interlocutore ecco quindi io il problema della lingua non me lo farei non me lo farei così tanto io ho conosciuto persone che hanno lavorato anche loro sempre da meccano che magari all'inizio del loro percorso l'inglese lo parlavano non dico astenti perché non era così però avevano difficoltà magari sentivano di avere delle difficoltà oggettive a riguardo e verso la fine del loro percorso non avevamo più alcun problema cioè l'hanno imparato lì ma in realtà anche negli studi le stesse abilità software lo stesso vale per quelle si impara tantissimo piccola parentesi io quando ho iniziato a lavorare da visualizzare la meccano 3d studio max l'avevo aperto due volte due cioè l'ho imparato strada facendo insomma sì sì ora faccio una piccola precisazione perché sono in parte d'accordo in parte non tanto nel senso che se il tema è entrare in uno studio per la prima volta uno diciamo ci può arrivare con un inglese un po' arrabattato ti anticipo un attimo ti anticipo un attimo c'è il tema del colloquio sì vabbè certo sì il tema del colloquio lavorativo lì bisogna comunque far capire che si è in grado di comunicare sì la vita di comunicazione è fondamentale sì 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 no ma sul colloquio ci arriverei dicevo solo una cosa sulla lingua cioè l'inglese la parte del discorso in cui ero d'accordo con te era quella dove tu dicevi che l'inglese che viene parlato negli studi un inglese alla fine abbastanza semplificato ecco l'inglese è una lingua abbastanza distrattata all'estero perché comunque si parla quel cosiddetto inglese internazionale che insomma è una lingua un po' flessibile insomma secondo me anche abbastanza semplice da imparare nel tema dell'architettura però in generale io spendo due parole in più perché secondo me sapere una lingua in un contesto di studio appunto anche estero in questo caso la lingua inglese perché io per esempio di olandese ammetto non ho imparato niente di portoghese qualcosa ma secondo me imparare cioè sapere l'inglese è veramente veramente fondamentale perché ti permette di esprimerti cioè permette davvero di far capire quanto vali perché è vero che per noi architetti i disegni parlano la rappresentazione parla ma nei rapporti con le altre persone nel cercare di anche far valere le tue idee io le prime volte quando con l'inglese mi sentivo ancora un po' diciamo rigido io avrei voluto dire delle cose che però non riuscivo a dire e lì ho veramente pensato cavolo devo assolutamente fare un passo avanti su questo aspetto perché non può essere che io abbia in mente delle cose che magari in italiano riuscirebbero anche discretamente che però per la mia non conoscenza profonda della lingua sono limitato nel dire e davvero ho avuto un disagio detto no devo assolutamente migliorare secondo me l'inglese è super 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 importante capisco qui entra in gioco anche il carattere ad esempio come dice leone ma guardavi tuttora in ufficio disegnavi le cose guardavi a casa no no leone in realtà io imparavo io imparavo sul posto nel senso ok ho questo problema andiamo a vedere come si risolve magari il tutorial me lo guardavo in ufficio ok ok si risolve così però in genere sono stata una persona che ha sempre appreso tramite il fare però tornando al discorso delle lingue sono d'accordo a metà nel senso che è anche bello in qualche modo trovarsi nella situazione apprendere lì per lì perché se si fa questo discorso del voler saper comunicare in modo efficace fin dall'inizio secondo me ci si blocca anche un po in realtà ok quindi bisogna anche un po tuffarsi in questa cosa dell'inglese l'inglese è importantissimo siamo su questo siamo assolutamente d'accordo ragazzi facciamoci una ragione l'inglese è la lingua franca e bisogna saperlo bene però non bisogna pensare e doverlo sapere alla grande essere dei perfetti comunicatori perché quella è un'abilità che si acquisisce anche appunto durante queste esperienze secondo me cioè anche un discorso di carattere magari tu eri un po più apprensivo sull'essere già preparato già pronto a comunicare magari io ero quello che si butta dice vabbè facciamolo anche se sono quello che adesso ho iniziato un podcast in inglese non sapevo come fare un podcast in inglese lo sto imparando mano mano insomma mi sta dicendo bene per il momento però anche io sto imparando ecco dunque quindi abbiamo anche parlato di conoscenze software di lingue straniere e c'è anche il discorso della cultura dell'ufficio cosa intendiamo però per cultura tutto quell'ecosistema di valori che questo è un discorso un po complicato che magari non coinvolge direttamente i tirocinanti però è tutto quel sistema di valori e di credenze che ha quell'ufficio di modo di operare che un po rispecchia quello come vuole posizionarsi quell'ufficio nel mondo dell'architettura e non solo il sistema di cultura di credenza di valori ma anche i tipi di progetti che affrontano no il tipo di mercato il tipo di committenza che quello è molto importante scusate Luca c'è un messaggio lungo in chat c'è scritto anche lui che lei ci dà la buonasera e ci ringrazia per le informazioni e dice guardando i profili di architetti che lavorano in studi internazionali leggo spesso che oltre ad avere una laurea magistrale hanno anche titoli superiori esempio master specifici o dottorati detto questo quanto secondo voi è importante investire altri anni in altri anni di studio per poi avere delle posizioni più importanti in degli studi di un certo livello secondo me è una bellissima domanda ottima domanda veramente proviamo a ragionarci perché anche ci ragiono per la prima volta in questo in questo momento allora io e prendiamola con le pinze questa affermazione non sono un fan dell'iper specializzazione a meno che non sia proprio un campo di nicchia nel senso parliamo di bin management parliamo di architetti tutte queste sotto insomma sotto queste sotto branche dell'architettura che sono delle conoscenze estremamente specialistiche o project management quello anche un importante campo e credo che in futuro sarà una competenza molto importante quella della gestione del progetto in quel caso ci può anche stare chiaro ci sono tante tanti sbocchi di specializzazione e qui dipende anche un po dalla personalità nel senso se io decido di specializzarmi in qualcosa devo essere davvero convinto perché specializzarsi porta appunto annicchiarsi in quell'argomento e a lavorare un ufficio soltanto con un ruolo ben definito ok per esempio chi fa art come io ho fatto artis ho studiato artis è quello che sono andato a fare poi in un ufficio stessa cosa penso che fa bin management una volta che hai lavorato hai conseguito un master come da bin manager lavori in ufficio come bin manager è possibile chiaro fare un cambio di carriera dopo però è più difficile quindi bisogna innanzitutto considerare bene questo questa indole personale e poi sì chiaramente se ci si specializza soprattutto in certi campi come il bim in questo momento ad esempio perché il bim innegabilmente avere dei dei operatori bim e di bim manager competenti è una competenza fondamentale o diventerà sempre di più è sicuramente un plus però bisogna anche lì essere bravi bravi e fortunati col tempismo e capire quando appunto un determinato ufficio trovare delle posizioni che ricerchino proprio quella competenza lì assolutamente aggiungo una cosa perché secondo me tu ti riferivi principalmente alla realtà dei master io aggiungo una cosa sulla realtà dei dottorati che secondo me chiude un po il cerchio della domanda che ci hanno fatto anche perché tu sei più vicino all'ambiente accademico in questo senso esatto esatto quindi chiude poi il cerchio di questa di questa domanda che ci fa federica in chat allora io farei una differenza rapidissima fra contesto accademico italiano e contesto accademico estero te la spiego in due parole per quel che so allora in italia se uno decide di prendere le vie dell'università è quella quindi non ci può essere altro quindi non c'è vita di studio questo poi ha ricaduto genera tutta una serie di problemi che conosciamo bene ovvero sia i nostri professori universitari raramente sono anche professionisti per la semplice ragione che il percorso universitario italiano a livello accademico quindi dottorato e poi borse di studio borse di ricerca è un percorso totalizzante quindi chi sceglie di fare quello lì fa solo quello e noi abbiamo dei professori che sono dei bravissimi accademici ma non sono dei professionisti perché da noi o l'una o l'altra cosa quindi per allo stesso modo in italia nel mondo del lavoro avere un dottorato non conta niente è una cosa la dico molto secca ma è così brutale ma è vero se vero ma giusto all'estero è un po al contrario nel senso che chi fa un dottorato all'estero ha il tempo ed è una questione di organizzazione per lavorare quindi questo vuol dire che tu fai un dottorato che secondo me è un arricchimento culturale fondamentale per un progettista e per uno che vuole fare il bravo architetto cioè tu hai la possibilità di studiare di più mentre lavori e ti hai dato il tempo e lo spazio anche economico per poterlo fare secondo me è una grande opportunità quindi questo vuol dire che nel mercato del lavoro estero chi ha un dottorato dal loro punto di vista e questo te lo posso assicurare è qualcuno che si è voluto spendere di più nella propria formazione quindi qualcuno che vale di più ha potuto farlo in virtù del fatto che mentre studi puoi lavorare e diciamo l'università ti consente di fare entrambe le cose e lato studio è una cosa molto apprezzata quindi in realtà dipende se tu hai intenzione di spenderti più in italia o più all'estero perché in italia forse magari un master ti consiglierei ma un dottorato lo escluderei perché nella realtà professionale è un titolo che non è spendibile mentre invece all'estero come forse anche tante altre cose un po il contrario quindi chi fa un dottorato ha effettivamente delle carte in più anche da spendere negli studi è proprio un sistema completamente diverso c'è leone invece che dice sta facendo la magistrale pensava giusto di fare un corso riconosciuto come being specialist appunto leone il discorso è tu senti di voler fare quello sai cosa vuol dire fare il being specialist perché magari andrò un po contro tendenza ma il discorso di dire vabbè faccio master per farmi assumere per avere più possibilità di assunzione è un discorso un po pericoloso perché prima bisognerebbe capire capire le inclinazioni personali e poi capire se si vuole ricoprire quel ruolo fare il discorso inverso può essere pericoloso perché poi ci si trova in situazioni di frustrazione personale scazzi vari insomma per dire in modo brutale non è bello poi trovarsi a un certo punto della propria carriera e trovarsi un ruolo che non si vuole ricoprire quindi ti direi pensaci attentamente vedi se quella del being specialist è la tua strada e valuta se è il caso di proseguire poi lungo quel cammino se è la tua strada però secondo me si vai dritto dritto se senti che il bim è il tuo diciamo la tua tazza di te allora vai vai esatto dicevamo cultura dell'ufficio perché volevo arrivare al discorso del quello che ho detto prima insomma quando si si presenta un ufficio giustamente come tirocinante anche come junior architect è importante fare in modo che i lavori che si mostrano nel proprio portfoglio in questo caso ma quindi nel proprio pacchetto lavori siano ben concordanti un po' con quello che l'ufficio mostra con quello che l'ufficio fa vedere all'esterno con quello di cui si occupa l'ufficio io faccio sempre l'esempio di di me che gestisco un piccolo studio di art in realtà è un one man show quindi sono io con dei collaboratori però mi arrivano portfogli e molto spesso mi arrivano portfogli di architetti con degli elaborati di progetto standard quindi le varie proiezioni mongiani pianta sezione prospetto per il mio ruolo per quello che faccio io io produco immagini e consiglio al cliente come parte di una strategia di comunicazione visiva di un progetto quindi un portfolio di un architetto che illustra il concept del progetto è una cosa che nel mio campo non è interessante e questo è l'esempio estremo se vogliamo fare un esempio un po particolare per quanto riguarda l'architettura se dovessi approcciarmi a uno studio che si occupa soprattutto di architettura sul piano parametrica si occupa di architettura parametrica l'approccio di alla progettazione tipo parametrico per questo ufficio ok a questo ufficio non mi sognerei mai di approcciarmi con delle architetture pulite alla zoomtor così per dire perché non c'è concordanza coi valori non c'è concordanza col tipo di linea non c'è concordanza col tipo di architettura che si propone quindi è importante andare un po in considerazione questa cosa quando ci si ci si propone a un ufficio e questo errore che viene commesso spesso è una cosa che dico molto molto spesso nei nei interventi comunque anche sul blog lo dico instagram è una cosa che voglio ripetere perché una cosa che vedo in cui molti cadono tu quando luca quando inviato il tuo portfolio da meccano cosa hai mostrato ma un giorno mi piacerebbe produrre un contenuto dove io racconto com'era il mio portfolio quando sono arrivato lì a parte che il 60 per cento di quel portfolio è piccolo piccolo sotto scritto federico bianculli contro il z blog ma questo magari sta lì no ok però secondo me guarda io meccano era uno degli studi in cui io più volevo andare quindi era uno degli studi che più avevo studiato e qui secondo me riprendo una delle cose che tu hai detto perché è molto molto interessante io sono assolutamente d'accordo con quello che hai detto tu e pensa che per esempio meccano ok come diciamo concetto legato allo studio ha tre parole ok meccano ha i dieci statements ok d'accordo ma ci sono tre parole che sono people place e purpose ossia persone luogo e scopo luogo e scopo ok allora il discorso è quelle tre parole sono quello che anima l'attività di tutti i giorni dello studio per tutte le persone no ovviamente no la quotidianità un'altra cosa forse volendo sono anche un po virate al marketing e questo è un tema delicato magari non è sì non è l'autorale di oggi però quello che si chiama un po il il mission statement quello che si chiama quindi dell'azienda ma non ne parliamo oggi no non ne parleremo in un altro modo però è fondamentale dire una cosa cioè people place e purpose sono come meccano vuole farsi vedere all'esterno ok è l'immagine che vuole dare e dal momento che io volendo andare a lavorare lì non avevo nessuno che lavorava dentro quindi non potevo esattamente sapere cosa succedeva io mi sono limitato a interpretare quella che era l'immagine dello studio o perlomeno l'immagine che lo studio voleva far trasparire all'esterno e queste tre parole sono state per me per diciamo organizzare piccole cose del mio portfoglio fondamentali perché in ogni progetto che io presentavo in qualche modo questi concetti saltavano fuori e so perché poi sono diventato amico di chi mi ha scelto che è stata una cosa molto apprezzata perché se non altro per lo sforzo ecco per lo sforzo di capire che quello studio lì si basava in linea teorica su questi tre principi e io questi tre principi avevo dato un'interpretazione mia rispetto ai progetti che avevo fatto adesso so che non tutti gli studi hanno un motto non tutti gli studi hanno diciamo tre parole che identificano un po la la missione del loro fare architettura ovviamente non è così però ognuno ha un modo di interpretare il proprio lavoro è diverso secondo me come anche abbiamo scritto sul blog recentemente federico so che te lo ricordi secondo me capire interpretare quello che è un po la missione dello studio e tradurla in qualcosa di proprio io penso che al momento sia il livello più alto possibile per entrare appunto dove si vuole andare sì è il modo migliore per aprirsi delle porte cioè è qualcosa che ti qualifica come un ascoltatore attivo come un osservatore attivo e attento di quello che accade attorno non per forza parliamo di cultura non per forza parliamo di mission statement quindi di come si posiziona l'ufficio all'esterno ma semplicemente anche un tratto grafico semplicemente anche un tratto progettuale molto più semplicemente può essere una cosa del genere e in quel caso sì proprio a partire dalla dalle cose più banali come dicevo prima il discorso dell'architettura parametrica che può essere proprio il discorso più evidente basta davvero poco però è importante esserne consapevoli e molto spesso ci viene chiesto no luca ma come faccio entrare in uno studio del genere se io non ho progetti di architettura parametrica allora evidentemente lì c'è da farsi un attimo un paio di domande perché non hai progetti architettura parametrica perché non ti interessava non continua a non interessarti forse vuoi soltanto entrare in quell'ufficio perché ti piace il nome o perché non hai avuto modo fino a questo momento di affrontare quella tipologia di progetto sì secondo me comunque ad esempio tu facevi il caso dell'architettura parametrica sto anch'io su questo esempio qua presentare uno studio che fa architettura parametrica un portfoglio in cui non c'è niente di parametrico è come non inviarlo no è come non inviarlo no esatto esattamente esattamente perché uno magari può avere un interesse in quella direzione lì però quell'interesse quella curiosità dovrebbe tradursi in qualcosa se uno non riesce a farlo secondo me non è un no in assoluto magari non è pronto in quel momento che va bene d'altra parte tu prima dicevi se uno manda a me un portfoglio con delle sezioni a linee io non so di che cosa farmene esatto non so di che farmene magari non sei pronto in quel momento però se hai un vero interesse verso quella disciplina quella branca puoi informarti puoi produrre del materiale successivamente con concorsi con workshop che possa riflettere quella caratteristica quella linea o quella cultura esatto ti spingi più vicino a loro possibile poi ci sono molte cose che sono davvero complicate dalle immagini che fai tu che sono pazzesche all'architettura parametrica però è un discorso di almeno avvicinarsi ecco cioè avere delle affinità questo è un discorso che dobbiamo portare avanti anche sul blog e in futuro abbiamo in mente di aggiornare anche i contenuti relativi a ss portfolio dice leone ma io posso mettere progetti che mi sono fatto da solo senza intervento di corsi o lavori saltuari certo assolutamente sì assolutamente sì non c'è bisogno di committenza per fare un progetto anzi in visualizzazione architettonica avviene tutto il tempo sempre viene costantemente la produzione lavori personali chiaro nel nostro caso e c'è un discorso di tempo perché magari immagini personali super super fighe sono fatte con tempistiche non commerciali però questo è un altro discorso quando si parla di portfolio è già più flessibile il portfolio di architettura scusami è già più flessibile questo discorso qui stavo dicendo quindi basta prendersi per tempo per fare progetti a mettere in portfolio o concorsi o rilaborare dei vecchi progetti anche rilaborare in chiave non contemporanea in chiave nella chiave alla luce delle conoscenze che si sono acquisite durante durante gli anni io è quello che ho fatto rilaborato dei progetti vecchi perché non avevo materiale che potevo vendere a un potenziale datore di lavoro beh ho dovuto mettere su un portfolio da zero rilaborando tanti progetti federica un'altra domanda quanto conta vedere la loro del laurearsi in tempo luca ne abbiamo parlato qualche settimana fa di questa cosa ci sono degli stati in cui viene guardata con una certa attenzione l'età in cui ci si laurea questa voglio far rispondere a te perché perché ragazzi dovete sapere vabbè luca sta portando avanti un progetto che si chiama architetti italiani nel mondo lo trovate su youtube come archisax luca ha intervistato matteo missaia recentemente matteo è un nostro ex collega di meccano e ci riferivamo proprio a lui poco fa quando dicevamo tu hai conosciuto la persona che si è occupata di vagliare i tirocinanti vagliare i portfolio da meccano nell'intervista di matteo cosa ha detto vai vai luca la faccio brevissima la lode non conta niente non conta niente perché questa la capiamo la mandiamo il luca no in realtà guarda ho detto una cosa eccessiva nel senso che laurearsi con lode è una grande soddisfazione personale e secondo me se uno può puntarci ci deve puntare perché è un cioccolatino che è giusto che alla fine di un percorso così lungo si mangi e si gusti a pieno però se parliamo di ingresso nel mondo lavorativo non conta niente anche perché se ci pensi quanto è aleatorio il concetto di voto in università diverse e pensa nel contesto italiano proiettela a livello internazionale cioè un 110 e lode che arriva a bruxelles ma si guardano che il numero più alto rispetto alla scala ma ci sono università che laureano in sessantesimi università che laureano in lettere quindi c'è il concetto di voto è una cosa che noi siamo molto legati perché dal punto di vista italiano sembra essere l'unico metro di misura per il nostro valore in realtà all'estero questo è davvero un concetto che conta pochissimo la lode conta pochissimo il voto di laurea conta pochissimo e aggiungo una cosa se l'aggiungo io l'aggiungi tu vai vai federico di la tua la cosa interessantissima che ha detto che ha detto matteo in quella nella conversazione con luca è che lui non ha visto una singola volta l'anno di laurea nel valutare i portfoli non ha visto neanche una volta non è mai 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 badato nemmeno una volta all'anno di laurea del candidato ha visto soltanto i contenuti del portfoglio pensa per noi incredibile per noi incredibile se andiamo fuori diciamo ma io mi sono laureato fuori corso con due tre anni di ritardo apriti cielo luca ci apriti cielo ma magari in quei tre anni ti sei laureato anche con una certa esperienza lavorativa ed è quello che conta come ho detto all'inizio di questa live io preferisco mille volte laurearmi avrei preferito mille volte laurearmi fuori corso ma con un annetto di tirocini piuttosto che laurearmi in cinque anni come ho fatto se potessi farlo lo farei senza senza proprio pensarci assolutamente guarda hai aggiunto la parte più importante in realtà che è quella anche degli anni cioè pensa addirittura non guardano quanti anni ci mette per laurearsi in un momento in cui mettercene 5 mettercene 7 per loro è esattamente uguale perché loro valutano quello che conta il prodotto finale l'elaborato dal caso il portfoglio come organizzato i contenuti del portfoglio magari guardano l'esperienza lavorativa pregressa su un curriculum ma fidati federica non guardano nel voto di laurea nell'anno di laurea e neanche l'età l'altro non si è neanche tenuta a dire la tua età su un curriculum non è non è necessario che tu lo dica quindi sempre di riconi dico una cosa che mi viene in mente che però potrebbe essere interessante potremmo analizzare in qualche modo le nuove tendenze diciamo antidiscriminatore per il curriculum perché noi effettivamente non siamo molto aggiornati è una cosa per me lo dico sinceramente quindi lo metto in anticipo in alcuni casi agghiacciante c'è questa sorta di diciamo modo di essere ben pensanti no per cui bisogna escludere alcune informazioni che potrebbero essere discriminatorie per me è è una follia totale perché una persona viene scelta proprio per come è lei delle caratteristiche particolari non so se sei d'accordo no 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 non è quello che volevo dire io sono al corrente che questa è una cosa una tendenza più anglosassoni mi ricordo che nei paesi anglosassoni è obbligatorio quasi escludere la foto dal curriculum sì sì assurdo in inghilterra sicuramente per me ma ecco ma tu che cosa ne pensi di questa cosa qua non siamo mai confrontati su questo argomento non è necessario neanche che sia una foto luca ti dico la verità la foto o l'illustrazione perché può essere anche un'illustrazione di se stessi oggi video un portfolio bellissimo in cui il volto del candidato era illustrazione era un disegno vettoriale bellissimo quello aggiunge personalità chiaro la foto se c'è una foto deve essere professionale beh ma c'è assolutamente professionale niente foto mi spiaggia niente foto beh oddio una foto in windsurf non non so come la vedrei in realtà dipende da che realtà c'è nel senso che sono certi studi che si presentano appunto come un po dei pazzarelli che il discorso della cultura di nuovo anche lì sempre la cultura ci sono degli studi che sono magari molto ingessati molto schematici nel modo di presentarsi all'esterno allora in quel caso magari presentare una foto un po più giacarellona un po più burlona non è il caso ce ne sono altri che magari si presentano in modo un po più fresco un po più dinamico allora magari far emergere quel tocco di personalità anche tramite una foto non è una cattiva idea no anzi guarda aggiungo una cosa un mio carissimo amico mio compagno di studi storico una volta laureato si voleva spostare più nel campo dell'interior design ok quindi girando per milano perché insomma comunque la città è quella lì è finita non farò i nomi ma a fare un colloquio un importantissimo studio di interior design di milano dove nel colloquio gli hanno chiesto se poteva fargli vedere la sua pagina instagram sì sì questa cosa ne ero al corrente ho un'amica che mi ha detto che negli studi interior design milanesi chiedono il profilo instagram come parte dell'application sì perché vogliono vedere come tu personalmente ti presenti verso l'esterno forse secondo me è un po un'esagerazione però arrivare all'estremo opposto dove tu dici che non devi mettere la tua foto nel curriculum perché non devi dare elementi che possono generare discriminazioni per me è follia pura cioè le persone vanno scelte per come sono loro e se tu sei blu rosso bianco cioè tu devi presentarti per come sei e quello lì è un valore aggiunto sempre se vieni scelto è anche sulla base di quello lì come si fa a scegliere una persona senza sapere quanti anni ha magari l'età non conta tanto d'accordo però io sono per per presentarsi veramente come sia nel nel portfoglio nel curriculum e nella lettera di presentazione quindi senza arrivare alla pagina instagram che secondo me è un po eccessiva sì è un po eccessiva sì 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 è un po eccessiva perché non mi sembra un metro di giudizio delle capacità di qualcuno sinceramente però spersonalizzare così tanto il curriculum e il portfoglio è una cosa che non mi trovo assolutamente d'accordo è una scelta personale la foto può esserci come tanto può non esserci se c'è e rappresentano i stessi in un certo modo ben venga anche però deve essere fatta in un certo modo non ho un'opinione formatissima su questa cosa ti dico la verità ci penserò va bene c'è una domanda sempre di andre 11 le skills è ciò che riesce a trasmettere nel colloquio credo che sia fondamentale cosa ne pensate le skills ne abbiamo parlato parliamo del colloquio in realtà perché il colloquio è una parte fondamentale però c'è da dire che se si arriva a fase di colloquio è già molto probabile che il grosso del lavoro sia fatto il colloquio quello step in più per convincere chi chi si occupa del recruitment è chiaro lì appunto le abilità comunicative sono fondamentali padroneggiare la lingua straniera in un modo sufficiente da poter comunicare il concept dei propri progetti quindi lì si dimostra effettivamente di padroneggiare l'inglese anche architettonico in qualche modo quello di cui parlavamo prima e bisogna comunque avere una presenza personale bisogna spesso i colloqui sono fatti via skype via via video video call adesso ancora di più in questo periodo quindi è importante anche seguire un'etichetta per quanto riguarda la chiamata video quindi non c'è solo il discorso delle skills ma anche appunto la sensazione di se stessi come personalità e come progettista bisogna essere chiari bisogna essere molto preparati sul materiale del proprio portfolio bisogna essere anche molto onesti perché non è detto che nel portfolio vadano soltanto progetti realizzati di proprio pugno chiaramente anzi nell'architettura è l'eccezione avere progetti realizzati da una sola persona spesso è frutto di uno sforzo di team e in quel caso bisogna essere bravi a descrivere il proprio contributo a quel progetto il proprio contributo a quello elaborato a quella quel disegno quel diagramma e comunicarlo attentamente a chi a chi abbiamo di fronte quindi questo è fondamentale anche perché poi si scoprono gli altarini in un modo nell'altro quando quando si va poi in un ufficio se non si è capace di fare qualcosa ecco ritengo che questo punto del dell'essere ben consapevole di quello che si può offrire di come si raccontano i propri progetti sia fondamentale tu quando hai fatto il tuo colloquio luca ti ricordi il colloquio che hai fatto da meccano sì io me lo ricordo anche io me lo ricordo io ero in berlino ero mi ricordo avevo un divano fucsia dietro e ero seduto su questa nicchietta che era questo in questo appartamento e niente avevo fatto intervista con questa questa ragazza che era la recluter del tempo di meccano e mi ricordo che lì mi fu chiesto proprio cosa hai fatto tu di questo progetto qual è la parte di cui ti sei occupato perché hai fatto anche i motivi per i quali avevo effettuato una scelta piuttosto che un'altra in un progetto esatto anche a me hanno chiesto la stessa identica cosa mi hanno chiesto mi ricordo la domanda specifica un po un po secca ma vanno bene anche quelle domande lì perché secondo te questo progetto vale uno spazio nel tuo portfoglio cioè tu hai scelto di mettere sei progetti per esempio immagino che tu ne abbia fatti molti di più perché questo progetto ok io sei perché questo progetto merita spazio nel tuo portfoglio che vale a dire dov'è la qualità di questo progetto dal tuo punto di vista cioè come sai raccontare le tue scelte infatti la cosa che hai detto prima federico mi trova completamente d'accordo perché quando hai detto che bisogna conoscere il proprio profilo il proprio portfoglio è assolutamente così perché le domande ricadono lì non è certo che ti chiedono se sai fare un comando di un certo programma perché non è quello il contesto lì si in un colloquio si misurano le capacità comunicative le capacità relazionali diciamo anche il tempo con cui tu parli la velocità la sicurezza come ascolti ma soprattutto si valuta come uno racconta il proprio lavoro nel portfoglio si valuta anche la passione del candidato aggiungere in quel caso assolutamente assolutamente la passione che si ha nel raccontare il proprio lavoro quella secondo me è l'ingrediente fondamentale di un colloquio in architettura soprattutto per un giovane architetto sia la passione che si dimostra nel narrare a voce il proprio lavoro ha un potenziale datore di lavoro quello è fondamentale luca secondo me cioè il tono di voce l'impostazione di quello che si dice è quello che trasmette il messaggio esattamente esattamente anche perché chi lavora in quegli studi ma in realtà tutti gli architetti con una certa esperienza e con un buon profilo sanno che è molto difficile valutare la qualità soprattutto più si entra nel campo del gusto più è complicato ma quando uno riesce a comunicare con coraggio le proprie idee con forza con passione è quello l'elemento che emerge al di là del fatto che un progetto a me io lo posso trovare geniale tu lo puoi trovare banalissimo che è una cosa anche lecita se vogliamo però il modo in cui io lo trasmetto come dicevi tu il modo il tono di voce con cui lo comunico la passione con cui ne parlo il trasporto con cui ne parlo fa capire che magari alcune scelte possono non essere condivisibili e questo ci sta soprattutto nei progetti universitari ma c'è uno studio dietro c'è una dedizione c'è una una devozione e secondo me questo se riesce a emergere è un valore aggiunto pazzesco se ci pensi soprattutto aggiungo una cosa per le culture nordiche dove una comunicazione appassionata e appassionante non è la norma non è la norma nella maniera più assoluta quindi più uno va a nord più io cercherei ovviamente nei limiti dell'educazione ma di trasmettere i concetti con grande passione perché loro la percepiscono tantissimo perché è una cosa speciale per loro hanno sempre un modo di parlare molto molto più piatto anche la lingua esatto la lingua un po cacofonica aggiungerei a questi suoni duri questa che sarebbe la schiata non è una lingua non è piacevole d'ascoltare un po ne ho imparato lo leggo l'olandese però non è piacevole d'ascoltare leone fa una domanda pratica una cosa che odio il limite di 20 megabyte per mandare il portfolio voi come fate lo comprimo fino a 20 megabyte a parte la parte la compressione ma anche il numero di pagine gioco a ruolo il limite di 20 megabyte anche per non avere a tutti gli effetti dei mattoni enormi di progetti infatti pochi babboni ragazzi poi parleremo anche di portfolio faremo anche revisione di portfolio in live infatti adesso iniziamo un po a costruire l'infrastruttura con cui farci mandare dei lavori da voi magari iniziamo con dei nostri lavori giusto per rompere il ghiaccio però una delle cose che io suggerisco sempre e non esagerare con numero di progetti anche perché se non siete in grado di acchiappare l'attenzione coi primi uno due progetti state pur certi che non riuscirete a salvare il portfolio con i prossimi 7 8 quindi e comunque secondo me diciamo se stiamo più sul sullo specifico dei 20 mega federico penso un portfolio con 5 6 progetti e una trentina di pagine secondo me alla fine 20 mega non è poi così male no non ci arriva 20 mega ci fai un'ottima qualità con un portfolio di 30 pagine in realtà certo che se ha 160 pagine è un problema però in realtà se uno fa di quelli diciamo i portfogli tutto è subito come secondo me sarebbe fatto una 30 35 pagine 20 mega in un formato non gigantesco ovviamente essere un formato anche stampabile secondo me non è male pensa che tanti lo chiedono a 5 mega ecco sì sì quello già un problema ci sono modi per aggirarlo spesso non so se si usa tanto ancora c'è issue.com che è una piattaforma di pdf io l'ho caricato su issue c'è la io non mi piace la soluzione dei link ai cloud però i studi secondo me non vedono tanto di buon occhio i link ai cloud perché non sanno dove vanno a pescare effettivamente poi non è pratico da consultare è molto più pratico da consultare un pdf allegato o un link nel peggiore dei casi piuttosto che andare a andare a pescare un link in una cartella cloud e dover scaricare il portfolio non è facile da catalogare quello è il discorso per questo io preferisco sempre l'allegato in ogni caso però il discorso di discorso di catalogazione dei lavori allegato fondamentale io so che alcuni è una scelta un po complicata non è che la caldeggia particolarmente ma può avere il suo interesse alcuni magari sviluppano un proprio sito loro quindi proprio magari sono due pagine cioè penso ad esempio gregorio ragazza che ho intervistato per per il belgio lui ha un suo sito effettivamente secondo me anche fatto molto bene e in quei casi lì ad esempio si può probabilmente mandare un portfolio e poi come contenuto extra allegare eventualmente un sito nel caso uno voglia curiosare di più anch'io anch'io penso che in generale unicamente il link per bypassare il problema dei mega e del peso solo quello lì secondo me non è un bel modo di presentarsi sono assolutamente d'accordo il sito può essere un più se un bel sito ma non può sostituire il portfolio il portfolio in pdf per ora siamo ancora su questa su questa linea per quanto riguarda gli studi di architettura magari questa cosa cambierà in futuro probabilmente cambieranno i mezzi in cui si scambiamo il portfolio però per il momento il il pdf è ancora è ancora il veicolo dominante per scambiarci un portfolio ecco però per dire gregorio ecco gregorio un giovane architetto però già un bel portfolio di lavori commerciali quindi lui non è un non è un esordiente per lui ha più senso avere un sito web ecco è quello discorso concordo ragazzi abbiamo parlato per quasi un'ora e mezza anzi un'ora un'ora e venti di live direi che come primo approccio a twitch è stato bello intenso no bello intenso sì sì c'è qualcos'altro la chat perché in realtà sì se c'è qualcos'altro la chat volentieri no io la leggo su su stream labs quindi la leggo in tempo reale non sto aprendo ogni tanto alla finestra di twitch perché c'è un leggero asincrono tra ok ok siamo dobbiamo praticerci anche noi infatti io volevo mettere un po di musica nel all'inizio non ci sono riuscito perché sono arrivato lungo e non sono riuscito a a sistemare questa cosa e poi dobbiamo anche settare i vari alert perché sono delle persone che sono iscritte durante la live e non è uscito l'alert purtroppo è una cosa a cui dobbiamo rimediare beh dai miglioreremo però insomma siamo beh abbiamo la prima live insomma sì 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 la prima live si può fare diteci anche ragazzi se vi è sembrata buona interessante ma soprattutto dateci i vostri consigli per gli argomenti delle prossime perché noi siamo all'inizio di un percorso abbiamo tantissime idee però noi abbiamo bisogno e voglia di confrontarci con chiaro assolutamente le idee ci sono ci sono tanti format che abbiamo intenzione di portare però siamo assolutamente aperti a qualsiasi idea vostra insomma noi ci sentiremo su instagram sul nostro gruppo facebook trovate i link nei panel qui sotto su twitch quindi se se magari avete mancato qualcuno di quei canali andateci a recuperare lì ultima cosa domenica sera io sono ospite sempre su twitch del canale di architrash quindi sarà più che altro una serata a cazzeggio ecco va non sarà così così didattica però ci divertiremo dai quindi se passate magari domenica sera dalle 21 e 30 sono in live con loro sul canale di architrash lo trovate su twitch col nome architrash seguirò senz'altro facciamo quattro risate dai ragazzi è stato un piacere ci vediamo immagino giovedì prossimo per ora continuiamo col giovedì poi vedremo come assestarci se il giovedì è il giorno che fa per noi bene federica consiglia i podcast su architrash all'estero e lo faccio assolutamente a mia volta consiglio il tuo il tuo podcast il tuo progetto su youtube grazie mille federico e niente ragazzi grazie leone ci vediamo alla prossima ci vediamo su instagram ci vediamo sul gruppo ci vediamo qui su twitch giovedì prossimo è stato un piacere buono la prima dai buona prima ciao ciao a tutti ciao a tutti